Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Ieri sera è stata trasmessa su Rai l'ultima puntata del programma Affari Tuoi, condotto da Amadeus. Per il presentatore si trattava dell'ultimo appuntamento alla guida dei pacchi, dato che ha annunciato il suo passaggio al 9 nella prossima stagione televisiva. Inaspettatamente però nello studio è accaduto qualcosa di molto particolare. La serata di sabato 1 giugno 2024 ha segnato la conclusione di due stagioni fortunate del game show Affari Tuoi. Il principale candidato a prendere il posto di Amadeus è Stefano De Martino. Ieri sera, Amadeus è stato accolto in studio da un lungo applauso del pubblico, che si è alzato in piedi in standing ovation per dimostrargli il proprio affetto. Un momento emozionante che ha lasciato presto spazio al gioco. La protagonista della serata era Angela, rappresentante delle Marche, accompagnata dal marito Tommaso. L'ultima puntata di Affari Tuoi è stata senza dubbio emozionante. La concorrente Angela ha affrontato la partita rimanendo con soli 50 euro e 5 mila euro, tentando poi il colpo grosso con la regione fortunata. La prima scelta, la Puglia, si è rivelata sbagliata e il monte premi si è dimezzato. Tuttavia, il gran finale è stato entusiasmante. Lei e il marito hanno scelto la Sicilia e hanno vinto 550 mila euro. Sull'onda dell'entusiasmo per il finale, i telespettatori di Affari Tuoi hanno voluto salutare Amadeus con uno striscione su cui era scritto grazie ama e un cuore. Amadeus, visibilmente commosso fino alle lacrime, ha ringraziato il pubblico in studio e a casa, oltre ai tecnici e agli autori del programma.